Non ce l'ho di aver avuto un pochino di paura nel mio cuore, ma cercheremo di dar veramente il meglio e cercheremo di essere garanti dei valori che questo tricolore porta con sé. E per avere la forza e il coraggio di guardare avanti. Vi aspettiamo. Giochi olimpici in Bernali, venerdì 4 febbraio, su Rai 2.